Siamo con Pasquale Davoglio, presidente dell'associazione Andis dei presidi per la provincia di Udine. Riaprono le scuole, ma c'è come annunciato nel luglio scorso il problema delle reggenze e delle presidenze degli istituti. Sì, in effetti in regione se ne sono 49 posti affidati a reggenti, che poi sono presidi di altri istituti, perché da moltissimi anni, più di 10, che non si fanno concorsi. Sembra che questo che è stato bandito nel 2007 si concluderà nel 2012 e quindi si potrebbe risolvere magari l'anno prossimo. Ma la situazione è effettivamente molto seria, perché pensiamo, per esempio nell'Alto Friuli, su 11 presidenze, ben 5 non sono affidati a titolari, o meglio, sono affidati a titolari che però hanno la presidenza in altre parti addirittura della provincia. Quindi su 11, 5 mi pare che sia un numero abbastanza... A questo punto, con i tagli che sono stati fatti poi dalla manovra di luglio, non l'ultima, quella che ha tagliato i posti anche dei vicari, si saranno dei problemi non indifferenti a gestire una scuola, delle scuole come quelle per esempio della montagna, che hanno un'estensione geografica anche abbastanza elevata. Ma il problema, ripeto, non è solo della montagna, è un po' di tutta la provincia, ben 20 su 49 si trovano appunto in provincia di Udine e credo che qualcosa bisognerà fare per evitare appunto che queste scuole vadano un po' al collasso. Problema invece precariato? Sembra, da quello che abbiamo potuto apprendere, che nella provincia di Udine il problema dei cosiddetti inserimenti a pettine, cioè di gente proveniente da altre parti d'Italia, non sia stato eccessivo. Fatto sta che queste graduatorie ormai stanno diventando un colabrodo.